Il mitico 63661 Oggi, 30 settembre 2023, viaggio sul treno storico, da Genova a San Pierdarena a Roncoscrivia, salita sulle 45.000 Ciao Oscar Ciao Eccoti Oscar Va bene correre Primo viaggio sul treno storico Direi Perché non mi vuole il telefono Giova, saluta Ciao Benvi Matteo Buongiorno a tutti Eric Iscrivetevi al mio canale YouTube, un po' di pubblicità occulta Ehi Giova, è sempre lo storico Allegri, allegri, che oggi questa è una giornata storica Sì Sì Buon'introduzione alle 45.000 Bene A bordo Buongiorno a tutti Oh, tiraggio la tendina, tiraggio, mannaggia la mignotta E non si tiene A porto E raggio tutto, questa è cabina privata Qualcuno mette la musica? Qualcuno mette la musica? Io, io, io Metti la musica Che musica metto? Poi è piano, devo fare l'introduzione Buongiorno a tutti Siamo sulle 45.000 Classe 1959 Queste carrozze purtroppo sono state dismesse nel 2005 Buon servizio E grazie a Fondazione FS Queste belle carrozze le hanno salvate E ci stiamo facendo anche il viaggio Godetevi il video Bellissimo viaggio Eh già Poi soprattutto in una carrozza scompartimenti Tanta roba E poi soprattutto il mio primo viaggio sul treno storico Sono così contento Yes Yes Siamo così contento Grazie a tutti. Sì, ce l'ho salito l'anno scorso, però non ho fatto il viaggio come oggi. Questa è il viaggio più grande. Sì, ce l'ho salito. Sì, ce l'ho salito l'anno scorso. Sì, ce l'ho salito l'anno scorso. Sì, ce l'ho salito l'anno scorso. È un Eurocity, Jack. Sì, ce l'ho salito l'anno scorso. 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 Voi c'hicks in grigio arghese e rossofegato. Voi c'hicks in grigio arghese e rossofegato. Mamma mia che bello, sto treno cisterna. Voi c'hicks in grigio arghese e rossofegato. Guardalo lì! Voi c'hicks in grigio arghese. Voi c'hicks in grigio arghese e rossofegato. Voi c'hicks in grigio arghese e rossofegato. Vengono tutti qua, no? Quanta gente sale? A bordo delle 45.000 per tornare a Genova. Buonasera. Ah, che comodità. Vengia! Vengia. 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 Autostrada per la via delle moni Si ritorna a Genova Con il 636 161 e le carrozze 45.000 Ci si vede poi i lavanti Con il 636 161 e le carrozze 45.000 Con il 636 161 e le carrozze 45.000 Con il 636 161 e le carrozze 45.000 Con il 637 161 e le carrozze 45.000